E' un'altra cosa. Ho i piedi massacrati. A vedere. Ci penso io. Non ne vale la pena. Comunque sia, non dureranno a lungo. Sempre meglio che niente. Magari ti rompessi l'osso del collo, carogna. E' un'altra cosa. E' un'altra cosa. Pensi che sia ancora vivo? Macchi, guarda come è ridotto. Che si fa? Dovremmo avvertire la polizia? No, lasciate stare. Vi interrogherebbero per ore e ore. Vi conviene andare via. Lei era lì. Non l'avevamo visto. Ci capisci niente. No. Non è ferito? Sono arrivato quando gli auguravi di rompersi l'osso del collo. Arrivo sempre all'ultimo momento. Allora, che si fa? Andate. Vi ho detto di andare via. Ma chi è lei? Un operaio. Un operaio che non sciopera mai. E siamo milioni e milioni laggiù. Dove? Lagrimas allì no valen. Arrepentimientos allì no aprovechan. Laggiù le lacrime sono inutili. Laggiù pentirsi non è di alcun aiuto. Orazioni allì no se oyen. Promesas para delante allì no se admiten. Laggiù le preghiere non si ascoltano. Laggiù i buoni propositi si respingono. Tiempo de penitencia allì no se da. Laggiù non è più tempo di fare penitenza. Perché ha acabato il poster punto della vita già non hai più tempo di penitencia. Perché, superato l'estremo attimo della vita, non è più concesso fare penitenza. Ma io credo che un giorno saremo salvi. Il giorno del giudizio, Dio avrà pietà di noi. Ehi! Tu che hai male ai piedi! Guarda, non ne ha più bisogno ormai. Il giorno del giudizio, Grazie a tutti.